La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E allora il premio a quello di eccellenza dell'anno è il Care & Pharma DPI. Il premio va a Micro Clean Italia. Percorre sempre al centro lo sviluppo e l'adozione di tecnologie d'avanguardia nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, per mettere le proprie soluzioni al servizio di business e collettività, per aver reso possibile l'investimento di capitali e risorse nel progetto di mascherine lavabili, attenzione sentite, 500 volte, ho detto bene? 500 volte, altamente filtranti e deco-friendly, beh, più di così, più di così deve fare solo un passo avanti e poi ci stiamo per le foto, perfetto. Micro Clean Italia, Micro, giusto? Anche la pronuncia Micro, ok. Siamo in compagnia di Milena Baroni, CEO di Micro Clean, benvenuta. Grazie. La vostra realtà questa sera ha ottenuto il riconoscimento nel settore dei DPI, come commenta questa vittoria? Beh, innanzitutto ringrazio le fonti per questo riconoscimento e posso dire che abbiamo fatto tanta fatica per arrivare fino qui e questo per noi non è sicuramente un unico traguardo ma un punto di partenza per poter arrivare ancora più in alto. Le vostre tecnologie avanzate sono da sempre anche al servizio del business e della collettività. Recentemente avete investito nel progetto di mascherine lavabili fino a 500 volte. Ecco, le chiedo di che cosa, di che tipo di prodotto si tratta e dove può essere utilizzato? Allora, una mascherina molto particolare riesce, appunto, come ha detto lei, a resistere a 500 lavaggi con una protezione in entrata e in uscita di 99,80%, quindi molto. Può essere utilizzata in tutti i luoghi dove è consigliata la chirurgica. La nostra è di tipo 2R e sta avendo un riconoscimento anche di FFP2. Questo è molto importante proprio per quel problema che abbiamo di smaltimento di rifiuti. Pensi che sono 1 miliardo e 129 pezzi al mese da smaltire, quindi veramente un'enormità. Noi con il nostro prodotto nel 2021 siamo riusciti a far risparmiare 700 tonnellate di rifiuti, quindi un gran traguardo. Ecco, siete quindi attenti anche alla sostenibilità, insomma, e le chiedo appunto quali sono i vostri progetti e obiettivi futuri proprio anche in questa ottica. Sì, certo. La nostra azienda è molto attenta a tutto quello che è l'ambiente, ma se posso dire non l'azienda, ma crediamo anche noi come persone, in prima persona, al prodotto ecosostenibile, al servizio ecosostenibile. Noi puntiamo molto su questo, se le aziende non puntano su questo non c'è futuro per il nostro pianeta.